...Niemen, macchina che entra sul rettilineo di fronte e inizia a prendere velocità il mezzo meccanico, la chiusura delle ali, partiti. C'è lotta per il comando con Marcos Mac, no, anzi no, all'esterno dovrebbe essere Mr. Ciuchifonte SM, sbotta di galoppo Olifante con Mr. Ciuchifonte SM. Numero 5, squalificato. 13-3 a partire con... finisce a tabellone Olifante, numero 5 dello schieramento, primo quarto da parte di Mr. Ciuchifonte SM, passato in 27-7. In seconda posizione Marcel che precede Marcos Mac e via via tutto il gruppo sgranato con il passaggio ai 600 iniziali in 43-9. In seconda posizione, in terza posizione si è sistemato l'Olympia Ruin SM, cavalli sulla penultima piegata con Mr. Ciuchifonte che comanda, va a passare agli 800 in 59-9. Si viaggia da 1-15 scarso, in seconda posizione sempre Marcel a precedere il numero 11 di un Olympia Ruin SM. Intanto all'esterno c'è lo scatto, l'avanzata di Niemen, il chilometro rifinito dal leader in 1-15-1 con Niemen che insiste e avanza. Scavalca Marcel e punta dritto sul leader della corsa, vale a dire Mr. Ciuchifonte SM. All'imbocco della piegata conclusiva, il passaggio ai tre quarti di miglio in 1-32 con Niemen che insiste. Di dentro c'è sempre l'Olympia Ruin SM, lungo i birilli il calante Mr. Ciuchifonte SM che però sembra ancora proporre qualcosa. Passa l'Olympia Ruin SM all'ingresso in dirittura di arrivo e scappa via. Niemen si lancia il suo inseguimento con Nitrofez che va a sprintare a centropista, ma l'Olympia Ruin SM ha fatto i conti bene. La porta a casa su Nitrofez e su Niemen terminati nell'ordine. 2-1-2 il tempo totale, 1-15-8 il raguaglio al chilometro. L'ultimo quarto in 31-16-3 per l'addirittura di arrivo. La vittoria per l'Olympia Ruin SM è il vecchio storti 82-74, la quota al tot nazionale. Al secondo posto il 7 di Nitrofez a precedere il numero 13 di Niemen. È tutto per questa quinta corsa, la linea ad Emanuele Cardona.